ciao a tutti amici di sbammi io sono cook e io sono max passato buone feste come andata max ti hanno fatto dei regali belli bellissimi dai fai vedere fai vedere la felpa ai telespettatori si vede un cazzo è meravigliosa va bene ragazzi allora passiamo alle cose serie questa sera presentiamo un'arma che è stata una pietra miliare importantissima nell'evoluzione armiera soprattutto per quanto riguarda le armi tedesche stiamo parlando del Gewehr 1888 molto bene allora prima di parlare di questo fucile iniziamo a piantarci giù un bel contesto storico ovvero perché importantissimo soprattutto per quest'arma lo facciamo partire come quasi tutte le armi coeve dal 1886 in quell'anno i francesi introducono in servizio il label modello 1886 appunto a cartuccia caricata a polvere in fume questo gli dava un vantaggio tattico decisamente superiore a tutti gli altri eserciti europei che fino a quel momento erano ancora equipaggiati di fucili a polvere nera quindi grosso calibro con delle prestazioni balistiche decisamente inferiori al calibro francese ma per fortuna dei competitor stranieri il fucile francese come abbiamo già detto nella sua presentazione dedicata era tutto fuorché innovativo o rivoluzionario in tanti in tantissimi aspetti se non proprio quello della del propellente utilizzato per la munizione il fucile francese infatti aveva era progettato attorno a un sistema cropace che quindi un caricatore lungo caricatore tubolare molto capiente ma che non poteva essere in nessun modo riempito con sistemi di riempimento rapido doveva essere riempito un colpo alla volta e quindi di fatto quello che si aveva in mano era un fucile a colpo singolo con possibilità di caricatore in riserva non era un vero fucile a ripetizione per certi versi quindi quando i tedeschi nel 1888 corsero immediatamente ai ripari perché la loro insomma storicamente avevano appena finito di combattere in pratica la guerra di la guerra franco prussiana del 70 e quella guerra lì i francesi che avevano perso se le erano molto legate al dito avevano giurato in tutti i modi di riprendersi territori persi in quell'occasione il rivale storico della germania in quell'epoca era la francia quindi e quindi la germania deve prima fra tutti si deve cagare i do addosso e correre ai rimedi i rimedi vennero fuori nominando una commissione militare di esperti che era incaricata di progettare o comunque di trovare un nuovo nuovo modello da fanteria che andasse a sostituire il gewehr 71 84 fino a quel momento impiegato dai tedeschi la risposta venne fuori con questo fucile quindi vediamo che questa commissione militare nesce fuori in breve tempo mischiando tante idee e per loro fortuna le due principali le prese giuste quindi vediamo che sviluppò il fucile attorno a un pacchetto è un'azione con caricatore integrale di tipo mallicker e l'altra cosa che sviluppò giusta fu la cartuccia una cartuccia stesso calibro stessa foratura e diametro di palla di quella francese ma montata su un bossolo decisamente decisamente più innovativo e più adatto all'uso nei pacchetti di caricamenti integrali adesso questo qua chiaramente è il pacchetto di questo fucile che è un pacchetto tipo car 98 tipo mauser ma dovete pensare che il pacchetto originale di questo fucile assomigliava molto a quello del carcano era un pacchetto en bloc e l'altra cosa appunto quindi fu la chiave appunto del della superiorità già tattica di quest'arma rispetto al label quindi era un vero e proprio fucile a ripetizione che con un solo movimento prendevi la lastrina e la mettevi in camera quindi avevi la ripetizione vediamo altre cose che furono scelte fu di questa canna che sembra enorme in realtà è un manicotto è un manicotto copri canna che è una soluzione che fu adattata adottata soprattutto per poter avere le baionette intercambiabili con quelle dei precedenti modelli 71 e 71 e 84 infatti il secondo momento quando fu sviluppata quella del Gever 98 fu anche quella fu fatta in modo senza l'anella soprattutto anche per renderla compatibile con questo modello rischiavano abbastanza l'ossessione di fare le baionette della compatibilità delle baionette quindi a questo punto direi che possiamo possiamo passare a giusto alla alla sua evoluzione di questo fucile perché nel giro di pochi anni i tedeschi e decisero di smetterla con questo fucile che non è un mauser e adottare un vero e proprio brevetto mauser ovvero il Gever 98 quindi questo fu fu adattato questo questo modello 88 fu adattato per poter sparare le lastrine del Gever 98 quindi fu modificato ma adesso vediamo un po' i dettagli nel dettaglio ok allora vediamo un po' quest'arma nella sua meccanica analizzando il nostro esemplare che abbiamo stasera che è quello del nostro gianne questo vediamo subito che intanto apriamo è un esemplare un modello 88 8805 8814 comunque una delle due varianti modificate per utilizzare la lastrina tipo mauser dopo l'adozione appunto del Gever 98 allora vediamo appunto iniziamo dall'azione max cosa di due parole te cosa pareri l'azione mi sembra palesemente quella Malliker cioè non ha nessuna differenza c'è lo stesso espulsore degli altri modelli sempre Malliker questa la testina qua serve ecco qua c'è è fatta per essere svitata per smontare poi l'otturatore nelle sue parti e questa ah il dente il dente che su cui fa presa la cartuccia è come nel Gever fisso non è a molle è a molle è a molle aspetta questo qua non è fatto per piegarsi no no infatti non ha la l'alimentazione controllata tu puoi su questo ci puoi caricare ci puoi caricare anche una cartuccia una cartuccia alla volta una cartuccia sfusa esatto e fu anche una delle delle più grandi lamentele su questo fucile era possibile in caso di chiusura non del tutto completa l'otturatore che restasse una cartuccia in camera e gliene se ne potesse chiudere una in testa con il rischio di farla di far detonare a otturatore aperto quella che c'era in camera fu una delle principali principali motivazioni che spinsero poi nel Gever 98 ad adottare la rib come si dice il claw extractor quello come cacchio si chiama l'estrattore comunque quello tipo mouser che permette solo che praticamente che permette l'alimentazione controllata quindi di prendere la cartuccia e non mollarla fino all'inizio del momento in cui viene tirata fuori dal caricatore fino a quando non viene estratto il bossolo diciamo era più sicuro questo qua possiamo vedere che intanto mantiene una particolarità che c'era nel 71-84 ovvero la faccia dell'otturatore era abbastanza contenitiva cioè quindi diciamo era un teoricamente intrinsecamente era più sicuro contro gli sfondellamenti vedi che si si un alloggiamento per il fondello per il fondello esatto e ecco e qua intanto vediamo anche quello che furono i primi problemi con quest'arma i primi problemi con quest'arma appunto aveva dei gravi problemi di gestione in caso delle rotture dei fondelli quindi il design appunto della sicurezza in quel senso dell'otturatore fu notevolmente rivista dopo le prime varianti sì diciamo che quest'arma soffrì molto di una messa a punto molto veloce molto molto rapida quindi diciamo le prime varianti avevano dei problemi anche abbastanza gravi questi problemi tra l'altro la fecero diventare abbastanza impopolare tra i soldati a tal punto che la chiamavano con diversi appellativi poco lusinghieri tra l'altro c'è la storia che essendo la produzione di queste armi fu data ai diritti per la produzione di quest'arma furono dati credo a una ditta in mano a un ebreo la Ludwig Love i primi modelli avevano dei gravi problemi chiaramente si fecero si diede la colpa si alimentarono dell'antisemitismo appunto di chiamarlo il Juden Flint il schiopo ebreo piccola curiosità e quindi appunto sistemati comunque questi problemi l'arma in sé divenne dopo le prime varianti divenne sicuramente molto più affidabile in tutti i casi diciamo che recuperarono un po' in fatto di affidabilità essendo stata progettata in fretta naturalmente ci furono problemi furono problemi scoperti dopo poi vediamo anche un'altra cosa che la comuna al nostro 91 è il il serbatoio visto che il sistema Malliker ha un serbatoio come si dice monofilare tiene molto posto quindi ha un serbatoio sporgente e qua vediamo l'altra che qua in origine c'era il foro di caduta della lastrina vuota come c'era nel nostro 91 quando furono convertiti il foro non si arriva più e fu tappato con questo lamierino ok poi un altro segno della sua trasformazione dell'ammodernamento si chiamiamolo così cos'è come hanno fatto ad ammodernare questo vecchio schioppo ci hanno aggiunto le guide qua sopra al receiver per l'uso delle lastrine mauser per permettere questo poi abbandonando la lastrina integrale hanno dovuto aggiungere anche il dente qua di guida per le cartucce che sembra si sembra semplicemente saldato e poi limato è una molla è un buco fatto nel receiver del fucile e poi ci hanno aggiunto questo dente con la molla quello che forse avrebbero potuto fare anche con il 91 ma va bene poi la conca qua per permettere di spingere la lastrina di spingere giù le cartucce senza fare troppa fatica esatto facciamo vedere dopo poi c'è stata anche l'evoluzione nel munizionamento sono passati alle spitzer quelle a punta blindata senza tutte le cose strane si queste qua sono cartucce da caccia con la punta molle però comunque avevano il profilo delle prime cartucce 8x57J quindi a punta arrotondate un po' più corte quando hanno notato la cartuccia spitzer hanno notato che non entravano hanno dovuto dare un colpo qua bellissimo e così dopo poteva permettere il caricamento sì anche perché praticamente qua si è anche spostato uno dei motivi più che altro anche perché con il ponte della lastrina lo spostavi leggermente più avanti anche il punto di caricamento quindi dovevi comunque farci stare i cosi egevolmente dovevi darci un colpo di lima ok poi altri diciamo che la conversione da 88 a 88 05 88 14 si finisce qua vediamo che anzi no non finisce assolutamente hanno cambiato sicuramente hanno cambiato l'alzo l'alzo è stato chiaramente ritarato per la nuova munizione ma soprattutto a livello meccanico non hanno molti fanno confusione sulla munizione qua magari anticipiamo già il discorso munizionamento la munizione di questo fucile l'8x57 j o infanterie usava palle molto pesanti da 200 mi sembra 215 220 grani da un profilo arrotondato e dal diametro di 318 millesimi di pollice quando sono passati alla cartuccia js spitzer la cartuccia js chiaramente non lavorava più sull'espansione di una pesante palla round nose sulla rigatura bensì lavorava già a fondo di rigatura quindi per permettere la cameratura delle cartucce a fondo di rigatura non furono cambiate le canne come tanti credono ma fu semplicemente allargato il cono di forzamento per permettere la cameratura delle pallottole hanno fatto un invito per permettere di sparare esatto un cono di forzamento poi poi magari ci torniamo su dopo sull'altro discorso e vediamo che questo fucile ha questo bellissimo manicotto come abbiamo detto per per far più paura come il cannone come il cannone di testa matta se mettiamo un tubo più grosso così sembra cattivissimo no in realtà fu scelto probabilmente per cercare una compatibilità maggiore con le vecchie baionette del modello 71 e 71 84 quindi hanno appesantito il fucile per riciclare un vecchio coltello no non hanno appesantito il fucile non hanno appesantito il fucile perché questo pezzo che non serve l'hanno appesantito però si considera che il manicotto comunque quando tu lo smonti adesso non lo smonteremo ma il manicotto smontato è veramente in metallo in sheet metal in metallo stampato è pieno di sabbia così non si scalda è molto leggero e al contempo la canna di questo fucile a differenza di quella del Mauser che è del Gewehr 98 che è una canna cosiddetta steppet barrel cioè inizia larga e poi man mano che in un paio di posizioni si riduce di diametro man mano che si avvicina verso la volata questa qua è una canna cilindrica quindi è molto più leggera rispetto alle canne successive comunque montate sui Mauser già dal modello 1891 infatti con questa soluzione fu ritenuta non del tutto soddisfacente perché intanto nello spazio tra la canna e il manicotto si poteva accumulare dell'umidità che creava ruggine anche ingrassando tutto nella maniera più ottimale e in più questo sistema non permetteva alla canna di espandersi in maniera diciamo ottimale sotto riscaldamento era un bending di merda esatto esatto quindi man mano che si riscaldava si vedeva che soprattutto nelle prime varianti che erano attaccate fisse c'era una dispersione dei colpi a canna calda che era paurosa poi questo nelle versioni successive fu migliorato ma il problema della dispersione dei colpi fu risolta solo col modello 98 ci facciamo una bella modifica ci facciamo un buchino qui un buchino qui e poi lo riempiamo di grasso poi quando inizia a scaldarsi la canna lo spruzza fuori che una meraviglia poi vediamo appunto il la bacchetta di pulizia con questo doppio slot si no devo svitarla no no non svitarla dai adesso la facciamo vedere intanto parla e basta non c'è mica mica tanto poi più da dire non abbiamo la baionetta purtroppo però no ce l'ho fatta era la stessa wow comodo ah vabbè è il solito sistema che bisogna unirne più di una pulito per pulire il fucile dai rimettila via ecco poi cosa possiamo dire a livello a livello storico queste armi quando scoppiò la prima guerra mondiale erano ancora usate largamente usate nella fanteria di prima linea e man mano che la guerra andò avanti intorno al 1916 fu la come si dice la sostituzione delle armi fu completa e la maggior parte di queste di questi fucili qua a partire dal 1916 fu iniziata ad essere venduta all'impero ottomano che in quel periodo aveva bisogno di armi e infatti questo qua che è quello che abbiamo qua è un esemplare turchizzato ovvero vediamo che ha molti molti simboli turchi su suo turatore manetta sulla canna no o sì o no no comunque no però vediamo che l'alzo è stato ritarato con i numeri farsi quindi vediamo che è stato convertito appunto per l'uso dalle forze ottomane gente farsa poi è sfuggito alle successive riarsenalizzazioni in quanto molti di queste di queste armi poi turchi che il fatto di armi non buttano via niente ancora peggio che noi molte di queste armi qua sono state convertite negli anni 40 allo standard 38 infatti sono molti li trovi con il copricanna tipico del mauser turco del del khale m38 non ne ho la più pallida idea ma ora lo sai e quindi questo è sfuggito a questa riarsenalizzazione degli anni 30 40 e arrivato fino a noi in questo stato allora pareri max come ti sembra sembra uno zavaglio grosso e pesante però sparra l'otto mauser quindi alla fine è anche facile da ricaricare un cartuccione piuttosto grosso si possono fare molte ricariche divertenti ricariche divertenti però sempre con un minimo di di polleggio bisogna stare un po' attenti quando si ricarica quest'arma è un'arma che si è stata per cariche divertenti intendo sottocariche roba leggera giusto per il tirassegno esatto ok ok per fare delle cariche spinte no più che altro anche quest'arma magari non è proprio non è proprio bene a essere caricata con delle cariche molto potenti per due motivi allora intanto vabbè sono armi vecchie diciamo non proprio insomma è sempre meglio stare attenti quando si caricano queste armi non fateci delle bombe come potete fare in un car 98 che un'azione 98 è perfettamente robusta e tutto questa qua è un'azione leggermente intrinsecamente più debole quindi tranquillità in più questi fucili hanno una particolarità lo standard di canna dell'8x57 primo tipo prevedeva un diametro dei pieni praticamente anzi un diametro dei vuoti scusate il diametro più largo in pratica uguale a quello dell'8x57 secondo tipo JS quindi diciamo il diametro tra i vuoti di queste armi è sempre tra i 322 e i 324 quello che però in queste armi è differente è il diametro dei pieni dovendo lavorare in un primo momento con una palla cilindrica che funzionava per espansione sotto pressione aveva dei pieni dei pieni molto più stretti cioè molto più stretti no però comunque rispetto all'8 all'8 Mauser se fate una prova vedete che la foratura della canna nei pieni è sensibilmente più stretta rispetto ai GVR 98 e ai K98 quindi appunto state molto più bassi di carica molto più bassi siamo stati ai minimi tabellari e vedrete che il vostro fucile andrà già molto bene perché alla fine comunque sono armi molto precise basta appunto non straffarci troppo ma sono armi molto precise e anche molto belle da sparare in quanto se vedete lo scatto di questa arma lo scatto di queste armi è molto dolce rispetto ai CAR 98 e ai GVR 98 per me sono sono armi molto molto belle con cui sparare scatto bellissimo gran scatto e quindi allora abbiamo detto considerazione sulla considerazione sulla ricarica e sulle munizioni da usare abbiamo detto lasciate possibilmente perdere le cartucce commerciali fate delle ricariche tranquille cosa abbiamo detto Max la tua parte preferita c'è deve esserci per forza no non c'è nessuna parte preferita è troppo allora queste armi si trovano generalmente si trovano molto spesso appunto le varianti turche le varianti turche che a livello collezionistico sono abbastanza snobbate rispetto a quelle tedesche non capisco perché ok ce ne sono di più di quelli turchi però per me il fatto che abbiano servito nell'esercito turco per me è un pezzo di storia in più quindi se si trovano in condizioni è chiaro se trovate un tedesco mint ancora con il receiver e l'otturatore al bianco è chiaro che lo andrete a pagare molto di più lo andrete a pagare molto di più ma in media quest'arma qua trovata in diciamo uno di quelli turchi classici che si trovano è un'arma che si trova generalmente tra i 400 e i 500 50 euro quindi se ne trovate uno buono di canna non è neanche generalmente non è neanche un bruttissimo prezzo secondo me per un'ex ordinanza che con un minimo di sbattimento nella ricarica ti dà anche delle ottime soddisfazioni nel poligono secondo me quindi si appunto i prezzi sono quelli cosa diciamo deve andare a casa va bene direi che per stasera abbiamo fatto abbastanza andiamo a fare una corsetta che buttiamo giù un po' di cenoni ragazzi amici di sbam a presto alla prossima a presto